Ciao a tutti ragazzi, tu di XTriver e oggi siamo qui con finalmente la serie, il walkthrough di GTA V Ehi, hai fatto tutto il live, che cosa succede? No, sto parto qua non mi ricordo, non mi devo rubare Comunque, siamo qua con il walkthrough di GTA V, come ho già detto nel precedente video, farò tutte, farò tutte le missioni primarie e anche quelle secondarie Però partiremo prima da quelle primarie Non ti fai a spazio, non ti fai a spazio! Poi attenzione! Ehi! Em, vedi questi ascoli nel closet! Ci sono stati con i cattoli, lasciati solo! Che cosa vuoi fare a te? Tu! 100 piedi! In la back, vieni! Ma li posso sparare? Per esempio, voglio usare un telefono Usa il telefono per la carta esplosiva No, aspetta Apri? Titolazione Chiamata in corso Che figata! Ok, siamo avanti signori Ehi! Che cosa vuoi? Oh! Allora! Voglio vedere i soldi! Ha ha! Show me the money! Slow and steady, Tee! Slow and steady! Ma come non arriva la polizia? Corri! 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 Un attimo ragazzi che esistono un attimo di impostazioni. Ok, è la prima volta che ci gioco qua per 360. Allora, audio potenziamento voci. Che è? Che è? Aspetta, ce n'è uno? Che era figo! Mentre la canzone... La canzone balla allora! Aspetta! No! 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 Eccola! Eccola! Uscite, altri paesi, altri autoparlanti, tv, cuffie... Volume Fd... Ehm... Riga! 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 Scusate un secondo, mi sono stupido. Si... Ah, eccola qua, sensibilità mia! sensibilità visuale e sensibilità minima, cioè perchè era troppo lento ok, recupero i contanti 2 si, è sicuro anch'io che sto giocando qua per per Xbox 360 non è il massimo di domani su Next Gen anche BlueCop 3 no, non lo so, non lo so, non lo so ho visto il tuo fai e ti ricordo devo prenderti 1000 cose ogni giorno cosa vuoi farci sicuramente che questo è uno di loro non ho visto uno di loro cambia non lo so mi sbaglio sono vero sono vero no ok scusami, barma scusami, barma non lo volevo fare non lo volevo fare non lo volevo fare se non mi metti la maschera scemo cosi si fai vedere guarda c'è la telecamera sopra guarda vedi sparate la telecamera dobbiamo metterti il riparo dobbiamo mettermi il riparo qua adesso la riparo guarda vediamo vediamo io e altri tre interessanti ragazzi uno è Joker uno è Riz the Dead l'altro è Marano abbiamo fatto un easter egg abbiamo fatto un easter egg su su non sei un idiot saranno stati tipo 4 o 5 giorni che ogni sera ci provavamo tipo dalle 11 alle 15 minuti del mattino 6 a volte non prendiamo neanche è stato assurdo perchè è veramente allora i rituali per le spade e tutto se sapete già cosa sono è tutto nessun problema appena si si provava oddio appena si provava ad andare appena si provava ad andare oltre oltre a poter salire la spada dovevi ricaricarla lì si bloccava lo faceva prendere oppure riusciamo a fare il primo distretto poi si si bloccava la partita oppure crashava la connessione cioè è stato veramente sudato ma ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta e lo porterò non possibile perchè non è importante se ci 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 sono davvero stouta non scusate come gioco che vengono come stesse no 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 vai vai trevor no sottos trevor manco io sono dai fuck 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 Ehi cazzo... Che pazzi... Ti scusi la perizia... Ah ecco, dove stanno? Cops, vieni a me! Sei cool! Non c'è nessun carro ancora? Siamo arrivati! E qui c'è nessun carro. C'è nessun carro. C'è nessun carro. C'è nessuna, venti... Vieni. Ok... Azzun... C'è nessuno, dai! C'è nessuno. Né, nè, nè, nè! che brutto che è Michael adesso Trevor con i capelli non è ancora di tutto bello vado a controllare sul retro porto ok 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 Oh Dio... Fuck you! 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 Motherfuckers! Kill me, you bricks! Allora, ti devo sparare il serbatoio. Dov'è il ricottero? I don't know, he's gone! Fuck you, stay back, you come near me, you fucking dead! Stay back! No, 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 help me! Go, go! Voi andatevi, vi farò giungo per 30 minuti. GTO 5 Part 1 Uh, scusate. Spero non si sia sentito. Non è sempre un buon cittadino. Non è sempre un buon cittadino. Non morì a morte di un eroe. Ma era un uomo! cuto Rockstar Games Presence Rockstar Games Ma non è morto Non conosciamo il vostro mistero infinito, ma sappiamo che ti mostrerà la miseria ai nostri amici. Ho detto uno lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, però visto che sarà lunga cercherò di stringere un attimo i tempi, caricandone uno al giorno oppure uno al mattino e uno alla sera. Adesso vedrò come fare. E questi due... Simenti spariamo. Benev Technologies E spedula i nostri perfetti e sessi subnaf messi il fiettaro. Sei sapere l'assima, colp segno del giro mentre giochi da buttare vota. Cosa è? Questi? Adesso non ci sono... E come voi? Ero un trepistallo. Io ho gli occhi di psicologi. Non ti aiutano niente e ti fanno solo incazzare. E' un trepistallo, figlio! E' un trepistallo. E' un trepistallo! Non è tutto l'altro. Credo che ho fatto. La futilità è una parte importante del processo. Cosa c'è l'occhio nero? Oddio che brutto sta facendo. Questa ragazza era l'introduzione del GTA V. Questa ragazza era lì. Che bella macchina. Di quanti voi? Perché per loro? Di quanti voi avranno mai sperato che la vita reale fosse comunque quello sui GT5? La forma sarebbe paradiso. La forma sarebbe paradiso. Ok. Noi ci vediamo alla prossima con il nostro amicato lì. Alla prossima ragazzi. Ciaoiers! . Roberto Beach House is.